Grazie Come facciamo? Non levo un chiave, non levo un chiave Non c'è nessuno Si è visto bene? Scusi Grazie 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 È che con i colleghi di settore A principino Aspettate Presidente Ho tenuto in ogni chiave Aspettate Lui A posto, non chiedevi a posto. La scelta scelterà. La scelta scelta. 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 La scelta scelta.